Buongiorno, state ascoltando la voce del sintetizzatore M8950. Questo dispositivo è stato progettato dall'Oxelt ed è prodotto e commercializzato dalla SGS. Risponde il numero 435287. L'utente è assente. Telefonare al numero 9621034 dopo le ore 10. This voice demonstration system is based on the M8950 speech synthesizer, designed in conjunction with CSELT, and produced and marketed by SGS. SGS propose des solutions clé en main. Depuis le silicium, responde il numero 435287. L'utente è assente. Telefonare al numero 9621034 dopo le ore 10. Il fiume ha rotto gli argini. Le strade liguri sono pittoresche. Il fiume ha rotto gli argini.